Mi faccio io stesso promotore di un incontro fra il parroco e il sindaco perché piazza e chiesa a Lizzano continuino ad essere faro di accoglienza, di incontro e di crescita civile. Sono le parole dell'arcivescovo metropolita di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, che sottolinea la necessità del dialogo per chiudere il caso Lizzano. La vicenda ha conquistato le pagine di tutta Italia, il rosario per la famiglia organizzato da alcuni fedeli per stigmatizzare il disegno di legge ZAN, Scalfarotto contro l'omotransfobia, la manifestazione in piazza di un gruppo di cittadini, la richiesta di identificazione da parte dei carabinieri, l'intervento in loro difesa del sindaco Antonietta Doria, le accuse nei confronti del parroco Don Giuseppe Costantino Zito di aver partecipato alla preghiera comune, la smentita di quest'ultimo. Esprimo vivo rammarico per i fatti recentemente verificati nella parrocchia di San Nicola a Lizzano e che hanno avuto una grande eco-mediatica, sottolinea il Vescovo, un momento di preghiera che per natura è e dovrebbe essere un momento aggregativo che riunisce la comunità cristiana e diventato purtroppo un motivo di divisione e di contrapposizione. La Chiesa, sottolinea Monsignor Santoro, è madre di tutti i suoi figli e come tale accoglie e ama tutti senza distinzione alcuna. Nella scia del luminoso insegnamento di Papa Francesco, ribadisco, sottolinea, come padre e pastore della Chiesa di Taranto, che il mio desiderio è quello di aiutare e accompagnare tutti a sostenere la fede nel nostro popolo, costruendo un clima di solidarietà, di rispetto reciproco e di collaborazione per il bene comune. Monsignor Santoro aggiunge però che così come non si brandisce l'arma della fede, al contempo non si può brandire quella di qualsiasi ideologia. Per tale ragione, evidenzia, condividiamo la nota del 10 giugno del Cardinale Bassetti, presidente della CEI, che sostiene che non è necessaria una nuova legge perché esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio. Insieme alla CEI conclude, facciamo nostra l'affermazione di Papa Francesco, nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde. L'arcivescovo pertanto auspica un confronto dialogico, franco e costruttivo fra le varie parti, per lavorare in un clima di pace e serenità, propositivo per tutta la bella comunità lizzanese. Grazie a tutti.